e amici del portale del verde questa volta eccoci qui a parlare non di piante ma di pecore un mio breve intervento quello che faccio oggi innanzitutto vi auguro una buona domenica visto che è domenica siamo all'ora di pranzo e io arrivo con le pecore perché parliamo di pecore oggi perché ormai in calcio ai miei video di solito si trovano commenti dove ci sono più di qualche persona che si lamenta delle pecore tanti dicono ma perché alessandro visto che hai un canale dedicato al giardinaggio continui a romperci le palle con le pecore allora le pecore è uno degli animali ognuno c'è i suoi animali c'è chi ama i gatti io per dire i gatti non mi stanno troppo simpatici o meglio sono fra gli animali che di certo non destano le mie attenzioni maggiori le pecore invece sono sicuramente fra gli animali che adoro e preferisco ma mi piace soprattutto il loro belare e tra l'altro ho anche la fortuna di vivere in un posto dove ogni tanto ci sono queste situazioni ve le faccio vedere queste pensate giorno di natale giorno di santo stefano insomma intorno a quei giorni queste pecore che adesso sono qui a poche centinaia di metri da casa mia vengono proprio fuori da casa mia e mi chiudiscono tutto il prato sono pecore e capri ma guardate che belle che sono allora come si fanno una mare un animale del genere e soprattutto guardate ci sono anche gli agnellini guardate che meraviglia guardate le le mamme con gli agnellini a prendersi un poco di sole e che dire eccole qua sono anche incuriosite allora io era solo per farvi vedere a me piace ridere e piace anche ogni tanto così comunicare in questo modo chiamiamolo alternativo il pretesto era quello per farvi gli auguri gli auguri o meglio augurarvi una buona domenica spero che voi state bene che stiano bene le vostre famiglie presto ci saranno delle dirette questa settimana vi porterò in quel di cesena a parlare di micorizze o meglio piante micorizzate vuol dire piante che portano attraverso queste radici micorizzate ad avere dei tartuffi in giardino questa è la prima diretta che vi garantisco e poi vi porterò anche nella bella sardegna patria delle pecore delle capre anche lì ecco forse perché mi piacciono così tanto perché io sono la mia seconda terra posso definirla sicuramente la sardegna e quindi andremo in sardegna nella bella tortolia a parlare con giulia campus di oia parleremo di oia o meglio i fiori di cera e poi andremo anche se riusciamo in quel diviterbo con la nostra green blogger chiara brunori a parlare di balconaggio ovvero tutto quello che si può fare sul proprio balcone e terrazzo di casa io vi auguro ancora un buon pranzo se dovete ancora pranzare come sottoscritto una bella domenica e ci vediamo presto e attenzione alle pecore che guardate e le capre che ci stanno osservando facciamo un bel saluto niente eccola qua guardate che bella che è questa perciò pecore e capre viva a tutti ciao ciao ciao